Pastiglia Leone si è protetta per un anno e ha dato risultati molto interessanti con Giovanni abbiamo lavorato insieme per trasportare quello che era uno shop online piccolo e assolutamente ci si è detto in maniera diciamo artigianale un po' come tutta la nostra azienda ad una dimensione più manageriale diciamo così lo shop online è quello che possiamo dire che è cresciuto, è cresciuto tantissimo ed è l'unico canale che ha avuto un tasso di doppia crescita nell'anno precedente. Quello che ha caratterizzato la relazione di Giovanni nel mentorship è stata una forte onestà fondamentalmente quindi la consapevolezza che tante volte le cose che non funzionano devono essere dette e che anche se non fanno piacere in realtà sono poi lavorando su quelle che si risolvono veramente i problemi e si raggiungono gli obiettivi. Quello che penso è che per qualunque imprenditore della zona del Torinese sia fondamentale poter avere la possibilità e non precludersi l'idea di partecipare ad un progetto del genere. si può avere la possibilità di aprire il proprio punto di vista c'è la possibilità di creare nuove opportunità di business nuove progettualità, nuove collaborazioni e nuove occasioni sul territorio e non soltanto sul territorio non soltanto sul territorio non soltanto sul territorio non soltanto sul territorio